Un italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare. Per questo oggi serve una garanzia. Da più di dieci anni l'Istituto Italiano della Donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti. Un'associazione che aderisce all'Istituto Italiano della Donazione è sicura e affidabile. Scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it Istituto Italiano della Donazione. Dona senza sorprese. Bentrovati. Sono Cinzia Di Stasio e lavoro all'Istituto Italiano della Donazione. Il nostro ente da ormai quasi vent'anni si occupa di garantire il donatore rispetto ai propri gesti di generosità nei confronti delle organizzazioni non profit e lo fa con delle verifiche puntuali, delle verifiche annuali presso le organizzazioni non profit che volontariamente si sottopongono al nostro percorso di verifica. Il verificatore incaricato controlla tutta una serie di elementi all'interno dell'organizzazione non profit soprattutto tutto quello che concerne la parte di rendicontazione quindi il bilancio economico, come l'organizzazione raccoglie i fondi, come li organizza al proprio interno ma soprattutto quanto e come va al beneficiario finale. Tutto questo consente all'organizzazione se supera la verifica con successo di esibire un marchio il marchio Donare con Fiducia. Questo marchio fa sì che il donatore possa individuare con facilità le organizzazioni che appunto hanno ottenuto questo marchio attraverso le nostre verifiche. Le organizzazioni che in Italia hanno ottenuto la nostra certificazione sono tutte raccolte nel sito iodonosicuro.it. Chiunque di voi quindi può scegliere in totale sicurezza l'organizzazione da sostenere andando appunto sul nostro sito e scegliendo le organizzazioni in base ai propri interessi. Invito anche chi è volontario o comunque in qualche modo a che fare con organizzazioni non profit di segnalare questa opportunità alla propria organizzazione per far sì che tutte le associazioni che hanno a cuore la fiducia e hanno a cuore il rapporto con i donatori possano intraprendere questo percorso di verifica e garantire ancora di più i propri donatori rispetto al proprio operato. Grazie Cinzia per la tua testimonianza. Io sono Ornella Ponzoni ed è un piacere presentarvi il giorno del dono. Il giorno del dono nasce nel 2015 perché proprio nel 2015 è stata approvata una legge della Repubblica Italiana che sancisce che il 4 ottobre di ogni anno si festeggia il giorno del dono. È stata per noi la realizzazione di un sogno, di un progetto che pullavamo da tanti anni proprio per sensibilizzare al tema del dono e della donazione sicura. Il 4 ottobre di ogni anno quindi siete tutti invitati, scuole, comuni, associazioni, anche servizi minorivi della giustizia a festeggiare con noi il giorno del dono. È bello perché fino da adesso, quando lo desiderate, potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito www.giorno del dono.org. Il progetto si svolge grazie ai protocolli di intesa col Ministero dell'Istruzione e col Dipartimento per la Giustizia Minorile. Tantissimi sono i patrocini e i partner che ogni anno ci accompagnano in questa bellissima avventura. Anzitutto, accanto ai ministeri, il patrocino di Anci che ogni anno ci aiuta a coinvolgere i comuni di tutto il territorio italiano. Quindi non mi resta altro che darvi appuntamento con il giorno del dono sul nostro sito www.giorno del dono.org e per cercare l'associazione a cui donare con fiducia sul nostro sito www.iodonosicuro.it Arrivederci! Grazie a tutti!